L'Aquila arriva al Bonci di Fossombrone per il primo di tre incontri che racconteranno evidentemente il futuro della compagine di Roberto Cappellacci. Squadra letteralmente stravolta per assenze e scelte tecniche con Alessandretti al posto di Cassese, Autangiulli e dentro Carbonelli insieme a Tavoni e Pietropaolo, quest'ultimo a rimpiazzare l'infortunato Sarrizzu. In panca però torna a bacio Terracino. Assenze importanti anche per la forza empronese con Germinale e Casola nemmeno indistinta, mentre Pagliari e Conti vanno in panca per un mister Fucili che conferma il 4-3-3. La gara stenta a decollare nei primi minuti di gara con tanta lotta in mezzo al campo e niente più. Il tacquino si sporca infatti solo al minuto 14 per segnare l'ammunizione e i danni di Galesio che sbraccia sull'avversario beccandosi la sanzione più innocua. Poi dal primo angolo della gara la forza empronese sfiora il vantaggio. Urso sale più alto di tutti e ci vuole un super Michelin a evitare il passivo. Rivediamo il riflesso a rallenti evidenziando la prudezza del numero 12 rosso-blu. L'Aquila si affida allora ai giocatori con i piedi migliori. In questo caso a Banegas che col solito movimento libera il mancino tentando di trovare l'angolino sul secondo palo. Palla fuori con Marc Antonini in traiettoria. Da qui al duplice fischio emozioni per allo zero e allora squadre a riposo sul risultato iniziale. In apertura di ripresa la prima ad avvicinarsi alla marcatura e ancora la forza empronese con Pandolfi che dalla destra scaglia un destro fortissimo solo l'incrocio dei pali. Dice no al vantaggio locale. L'Aquila cambia ancora dopo due minuti con Pietro Paolo, Galesio e Bellardinelli che lasciano il posto a Battistoni, Bacio Terracino e Lorenzoni. Il rosso-blu faticano a trovare spiragli e allora Tavori, fuori zona di competenza, decide di mettersi in mostra tentando di sorprendere Marc Antonini dalla distanza. Il suo mancino improvviso mette i brividi all'intera tribuna marchigiana. L'Aquila prova a sfruttare anche i calci piazzati. È da corner al diciottesimo. Alessandretti non arriva per un attimo, poi Capitan Brunetti non può intervenire malgrado l'acrobazia. Al ventottesimo Cappellacci si gioca anche la carta Persiani con un tridente offensivo davvero inedito. Carbonelli sotto la doccia in anticipo. Abruzzesi poco incisivi lì davanti, eppure l'ultima occasione è sui piedi di Lorenzoni. Bravo a trovare lo spazio per bucare la difesa locale, ma a tu per tu con Marc Antonini si fa ipnotizzare dal numero uno che si oppone con una straordinaria risposta. La gara finisce qui in un match complicato da raccontare anche per noi, causa l'avaro numero di occasioni create. L'Aquila rallenta il cospetto delle battistrada che invece vincono i loro confronti. Domenica derby con l'Avezzano, evidentemente già decisivo per capire le reali ambizioni di una squadra incapace di prendere il bivio corretto nel tortuoso percorso del Girona F.